Buongiorno a tutti, grazie per i colleghi che sono in collegamento e anche per chi è presente a questa conferenza stampa che Istat ha voluto convocare per comunicare nel migliore dei modi i conti economici annuali del 2022 che portano delle revisioni considerevoli, li abbiamo definite nel comunicato che abbiamo diffuso che riguardano il 2021 con effetti sui diversi aggregati naturalmente non solo macroeconomici ma anche di finanza pubblica come tra poco vedremo è una revisione che l'istituto comunica e che è una revisione piuttosto in linea con quella che abbiamo visto comunicare da altri principali istituti nazionali di statistica del sistema europeo negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Con me c'è il collega Giovanni Savio che è il direttore della contabilità nazionale dell'Istat, io procederei in questo modo, le agenzie stanno facendo i lanci su il comunicato che abbiamo diffuso con il consueto embargo, una prima illustrazione da parte di Giovanni dei principali risultati di questa comunicato stampa e delle revisioni e poi chiaramente è a disposizione dei colleghi per tutte le domande che ritenete sulle motivazioni che stanno dietro questo esercizio che ripetiamo è un esercizio che viene come di consueto nel processo di produzione della statistica ufficiale che riguarda la contabilità nazionale, sono revisioni che si fanno normalmente, la notizia è il risultato per il 2021 di questa revisione che come vedremo tra poco è per l'appunto un risultato considerevole. Giovanni a te la parola per una prima illustrazione. Grazie Davide, partirei proprio da questa forchetta che avevamo comunicato nella convocazione di questa conferenza stampa odierna dove effettivamente davamo l'annuncio di questa importante revisione revisione del PIL 2021 a prezzi, non a prezzi, prezzi correnti, indicando appunto questa forchetta tra l'1,8% e il 2,1% in più in valore e dicevamo, davamo questa informazione qualitativa sulla causa principale di questo cambiamento del 2021 era il recepimento dei dati del nuovo sistema informativo integrato per la stima dei conti economici delle imprese, quello che viene chiamato frame SBS, cioè essenzialmente si ha una rilevazione che assomiglia molto a quella di un censimento, un'informazione completa che quindi può essere differente da quella da segnali e contenuto informativo degli indicatori congiunturali a breve termine, quindi sia mensili sia trimestrali che tradizionalmente vengono utilizzati nella stima in corso d'anno e quindi nella stima dei conti trimestrali essenzialmente. Oggi appunto con il comunicato stampa siamo chiaramente più quantitativi, con questo comunicato stampa rivediamo tradizionalmente le serie dal 2019, il 2019 non è cambiato, il 2020 ha subito delle revisioni molto moderate, modeste e appunto c'è questa revisione sostanziale del PIL corrente e costante sia come tasso di crescita sia come livello del 2021. Il 2022 essenzialmente in termini di tassi di crescita non è stato rivisto, però chiaramente il livello del 2022 per effetto diciamo di trascinamento si porta dietro un livello più alto del PIL nominale e del PIL concatenato. Rispetto ai tassi di crescita passiamo in volume dal 7,0 che era il dato che avevate all'8,3 quindi c'è un incremento del tasso di crescita dell'1,3%, mentre in termini nominali il tasso di crescita passa dal 7,6 al 9,7. Quindi siamo più schiacciati sul volume perché abbiamo diciamo così rivisto anche il deflatore, c'è un effetto con posizione all'interno però essenzialmente l'effetto è questo. Anteriormente Davide diceva appunto che siamo essenzialmente in termini di volume in linea con quello che abbiamo visto per ora per gli altri paesi europei, per esempio i Paesi Bassi hanno rivisto al rialzo e questa è una costante essenzialmente, se ci sono revisioni eccetto un caso specifico queste sono all'insù. Abbiamo dei livelli di PIL più alti nei Paesi Bassi, per esempio il PIL in volume è stato anche lì rivisto dell'1,3%, il Regno Unito che è probabilmente quello che è uscito prima con questi nuovi dati, il tasso cioè la differenza tra i tassi di crescita è dell'1,1%, quindi un pochettino meno di quello che abbiamo noi e Paesi Bassi, Spagna 0,9%, Germania 0,6%. Alcuni di questi paesi hanno rivisto però anche il 2020, quindi cumulativamente siamo molto in linea con gli altri, al contrario in Francia che ha rivisto sia il 2020 che il 2021 abbiamo una riduzione e quindi un livello del tasso di crescita, un tasso di crescita più basso dello 0,4% in entrambi gli anni. Però al livello della zona Euro e dell'U27 probabilmente avremo un rialzo nei livelli appunto del PIL. abbiamo la conferma appunto nel comunicato del tasso di crescita 2022 su 2021 quello che conoscevate. Questo ha effetto anche su questi due numeri indebitamento PIL e debito PIL che cambiano nel 2021 che cambiano nel 2021, l'indebitamento PIL passa dal 9,0 che avevamo dato precedentemente almeno 8,8, quindi c'è un miglioramento per effetto dell'incremento del livello del denominatore di due decimali. Quindi il debito PIL sempre per lo stesso anno e sempre per lo stesso effetto ha un miglioramento di 2,8 punti percentuali passando da 149,8 a 147. L'effetto sul 2022 non c'è nel senso che rimane l'indebitamento PIL al meno 8,8, mentre il debito PIL passa da meno 144,7 a meno 141,6 nel 2022. Allora come vi ho già detto la causa principale è il recepimento del nuovo sistema informativo PREIM SBS e quindi questa differenza tra indagini diciamo così relative all'universo e indagini per così dire campionarie, indice della produzione industriale, fatturato nell'industria e fatturato nei servizi che sono gli indicatori che utilizziamo in corso d'anno quando non sono disponibili questi set informativi diciamo così consistenti. Ci sono anche altre con cause che non è facile chiaramente quantificare ma che se leggete bene i comunicati di stampa degli altri paesi emergono abbastanza chiaramente quasi tutti utilizzano questi modelli trimestrali per la stima in corso d'anno che si basano su ipotesi abbastanza forti cioè linearità delle relazioni fra variabili che sono alla base dei modelli di trimestralizzazione e anche in un certo senso di destagionalizzazione perché utilizziamo questi filtri diciamo così simmetrici all'inizio e alla fine della serie che appunto ballano nel caso in cui i dati sono soggetti a cadute e riprese forti diciamo di tipo non lineare. In corso d'anno essendo l'informazione congiunturale limitata si fa anche molto utilizzo di ipotesi diciamo così forti essenzialmente quella di un rapporto costante tra valore aggiunto e produzione a prezzi costanti. Quindi l'ipotesi sottostante è di un andamento lineare diciamo così dei consumi intermedi questo perché a livello congiunturale non abbiamo informazione sulla struttura dei costi delle imprese e sulla dinamica di questi consumi intermedi. Altri come nel caso dell'Olanda utilizzano ipotesi ancora più forti diciamo cioè quello della costanza del rapporto tra consumi e produzione quindi il tasso di risparmio che non varia essenzialmente da un anno all'altro che può andare bene in casi di modeste ondulazioni cicliche ma Nel caso che abbiamo sperimentato nel 2020 e nel 2021 assolutamente no. C'è un forte cambio strutturale analizzando i microdati che finalmente sono a disposizione della contabilità nazionale un cambio strutturale perché ci siamo resi conto che appunto tra il 20 e il 21 ci sono state molte imprese anche di piccole dimensioni che sono morte molte che sono nate e quelle che esistevano già gran parte di queste hanno probabilmente fatto degli efficientamenti dei sistemi produttivi riducendo la pressione dal lato dei consumi intermedi e questo a parità di produzione ha fatto alzare il valore aggiunto cosa che sta succedendo appunto nei dati che commentiamo oggi non solo quelli nostri ma anche quelli di altri paesi va bene qui c'è solamente per farvi vedere un poco di foto storiche del PIL dai tempi di Garibaldi 1864 fino ai giorni nostri quindi questa è una serie storica che sta nella base dati ISTAT c'è il PIL delle fluttuazioni del PIL diciamo nominale nei pressi dell'unificazione del paese nel 1870 nella prima guerra mondiale seconda guerra mondiale crisi energetiche degli anni 70 qua si vede diciamo così relativamente poco però quella caduta che c'è fra il 74 e il 75 è molto è molto forte se la analizzate in termini di tassi di crescita poi crisi finanziaria del 2008 2009 e finalmente questa botta finale del covid nel 2020 e poi questa ripresa sostanziale del 2021 e 2022 quindi questo per farvi vedere che la fase che abbiamo attraversato non è assolutamente nuova cioè in termini di non linearità di queste serie le cose sono ai noi abbastanza frequenti questo è un grafico della serie in grigio diciamo del PIL e dei tassi di crescita del PIL costante questo per sintetizzare un po' tutto quello che ci siamo detti e che avevate fino a aprile e poi questa serie verde che è quella che rilasciamo oggi quindi c'è a parità di meno 9 e 0 nel 2020 abbiamo un tasso di crescita nel 2021 che passa da 7,0 a 8,3 e torna a 3,7 nel 2022 questo chiaramente avrà un effetto sul punto di rientro sul trimestre diciamo così di rientro dalla crisi quindi domande che vengono in genere fatte ma quando è che siamo tornati al livello del 2019 dell'ultimo trimestre del 2019 cioè dell'ante covid ecco probabilmente anzi sicuramente questi livelli nuovi del PIL del 2021 e del 2022 cambieranno avvicineranno diciamo così il punto di uguaglianza con questo cioè sì del 2019 quarto trimestre non sarà penso dalle prime cose che abbiamo visto più di un trimestre cioè avremo un trimestre in meno di avvicinamento però questo lo comunicheremo ufficialmente prendete queste mie parole come una tra qualche giorno quando usciremo i primi di ottobre mi sembra il 5 Davide 4 con i dati dei conti trimestrali per i settori istituzionali e con i dati dei conti trimestrali tradizionali allora qui in questo grafico che trovate pure nella nota informativa cerchiamo di far capire quali sono stati nel 2021 i settori dal lato della produzione che hanno contribuito di più anche in termini di revisione del contributo alla crescita nel valore aggiunto che è quella parte diciamo così gialla e un confronto con il contributo alla crescita del valore aggiunto nel 2022 come cioè la serie che avevamo dato a marzo del 2022 come vedete c'è una certa diciamo così generalizzazione di questa spinta al rialzo per tutti i settori produttivi ma particolarmente forte per la macro branca questa è una branca molto importante del commercio quindi anche per il contributo alla crescita del PIL in volume confrontati con quelli che avevamo dato precedentemente c'è una revisione della domanda nazionale al netto delle scorte di 0,4 una variazione delle scorte che ha un contributo anche questo abbastanza importante 0,6 e una domanda esteranetta che non viene essenzialmente rivista questa è la spiegazione diciamo di quell'1,3% in più dal lato della spesa grazie allora grazie Giovanni volevo dire anche che al comunicato di oggi è allegata una nota tecnica che illustra tutte queste dimensioni che abbiamo ora illustrato sia dal punto di vista della procedura di produzione sia dell'analisi dei fattori e delle componenti del prodotto alla luce di questa revisione ci sono adesso già prenotate un paio di domande io quindi sentirei le domande e così affrontiamo magari anche immagino la parte di finanza pubblica allora Gavin Jones di Reuters e Giovanni Salzano di Bloomberg partirei con Gavin se sei in ascolto e apri il microfono prego ecco senti Gavin? mi sentite adesso? sì perfettamente grazie sì scusa no volevo sapere queste revisioni se hanno avranno un effetto sul quadro che affronta il governo che quando presenta la manovra no 2024 c'è stato un po' di diverse cose si è letto nella stampa che il governo contava su queste revisioni per avere più spazio di manovra nella manovra più possibilità di spendere se praticamente secondo voi l'aumento del livello del PIL del 2021 col trascinamento del 2022 poi potrà un tale trascinamento su 2023 che rende più facile per il governo raggiungere nell'obiettivo di deficit che si è dato che si darà nel 2024 non so se mi sono spiegato se queste revisioni cambiano il quadro in positivo per il governo e di quanto? ok Gavin sentiamo anche Giovanni Giovanni Salzano di Bloomberg così facciamo un paio di domande un paio di risposte prego accendi il microfono possiamo cominciare a dire tanto che che prova a accendere il microfono Giovanni Salzano intanto ricordo che sull'indebitamento netto del secondo trimestre come ha detto prima Giovanni daremo un dato il 4 ottobre quindi diciamo che questa è la prima la prima occasione utile la seconda occasione utile probabilmente noi saremo se viene presentata la nota di aggiornamento c'è un consiglio di ministeri credo il 28 di settembre quindi nei giorni successivi ci saranno le audizioni quindi noi saremo ovviamente coinvolti e in quella sede probabilmente qualche considerazione in più anche alla luce dei numeri che stanno lavorando i colleghi della direzione di Giovanni sapremo dire se Giovanni invece Salzano non riesce a fare la domanda io passerei a Giovanni questa se vuoi dire una considerazione su questa cosa qui ci rilevamo ma certo una domanda a cui non è facile rispondere nel senso che ci sono molti elementi che possono concorrere alla risultato finale dell'indebitamento PIL del rapporto indebitamento PIL se vedete nel 2022 abbiamo pubblicato lo stesso dato che c'era in precedenza questo per un effetto sia del numeratore sia del denominatore c'è poi un tema appunto della stima dei super bonus che può impattare appunto sui dati del 23 e ha già impattato in parte sui dati che abbiamo diffuso oggi del 2022 quindi è un po' articolata diciamo così la risposta che possiamo dare vediamo il 27 che tipo di documento verrà presentato come anticipava Davide saremo quasi sicuramente chiamati ad una a dei commenti ecco sulla Nadef per cui in quella sede ci esprimeremo c'è una domanda forse da Libero Monteforte ufficio parlamentare bilancio vedo la mano alzata Libero prego buongiorno a tutti grazie Davide complimenti all'ISTAT per questa operazione di trasparenza osservo che in altri paesi anche importanti ci sono state revisioni non accompagnate da una così dettagliata e ampia messe di informazioni da parte dell'Istituto di Statistica quindi questa è una cosa di cui come diciamo l'Italia probabilmente nel confronto con gli altri possiamo andare orgogliosi legandomi anche alla domanda precedente cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista previsivo chiaramente quello che conta molto la revisione dei conti in particolare su poi quello che saranno le ripercussioni sui tassi di crescita dei macro aggregati nel 23 rilevano le revisioni ai trimestrali quindi acquisiti ora da quello che ci ha raccontato il dottor Savio sicuramente dobbiamo aspettarci delle revisioni non trascurabili ora meccanicamente queste revisioni sono rilevanti nell'intorno del 2021 che è l'anno in cui abbiamo le differenze maggiori però qualche piccolo strascico non possiamo escluderlo anche nei trimestri che è più interessato ai previsori quindi stiamo dicendo dal quarto 2022 fino al secondo 2023 ecco la domanda è molto semplice dobbiamo aspettarci che queste revisioni in questi tre trimestri importanti per i previsori sia sì sono giovani di essere riuscito mi sentite scusa c'era un'altra domanda aspetta un attimo Giovanni sì c'è prego concludo volevo appunto chiedere se dobbiamo aspettarci delle revisioni trascurabili o qualcosa un po' più rilevante solo questo grazie e ancora complimenti grazie dei ringraziamenti sì in effetti abbiamo fatto probabilmente spero rispetto agli altri paesi ecco anche questa conferenza stampa cioè alcuni non penso che abbiano fatto tutti il lavoro abbiamo abbiamo fatto noi però pensavamo che fosse corretto appunto data l'eccezionalità di questa revisione ordinaria perché si tratta sempre di una revisione ordinaria e dato l'anno in particolare che sarà l'anno del benchmark dei conti che produrremo a settembre del 2024 quindi data questa centralità questa importanza dell'anno ci siamo sentiti appunto di dare delle spiegazioni dettagliate di offrire un quadro informativo il più possibile completo è vero probabilmente dalle prime cose che abbiamo visto gli scossoni saranno più nel 2021 cioè più sugli anni diciamo così precedenti essendo però il 2022 e il 2023 ancora calcolati col sistema degli indicatori perché non abbiamo un frame per il 2022 mi sento di dire che probabilmente nell'ultima parte di queste serie le revisioni saranno inferiori e quindi saranno come anticipava il dottor Ponteforte saranno di entità limitata c'è stato qualcuno che ha storto un pochettino la bocca quando siamo usciti una prima volta con la stima flash con meno 0,3 e poi nella stima completa abbiamo dato meno 0,4 ma toccava andare a vedere il secondo decimale per capire che appunto era una revisione di entità limitata e ci sentiamo di dire che anche in questo caso nell'ultima parte della serie che è quella più attenzionata e come chiamarla così non ci saranno revisioni sostanziali che invece ci aspettiamo più concentrate nel 2021 Salsano prova ora se riesci eccomi Salsano di Bloomberg allora avevo una domanda sul deficit per il 2022 che rimane all'8% nonostante diciamo l'aumento del pil nominale e questo per effetto di una revisione del deficit di circa 3 miliardi per il 2022 cioè il deficit per il 2022 sale diciamo è più alto di 3 miliardi rispetto a quello diciamo precedentemente comunicato poi mi chiedevo la prima domanda era appunto qual è il motivo diciamo se siete voi che avete revisionato qualche cosa o se avete ricevuto dei dati nuovi chiaramente dal dal governo e la seconda invece domanda è sulla natura diciamo di questa revisione del pil e cioè voglio capire se è un qualcosa che dipende da un appunto da dei nuovi progetti istat diciamo appunto dei settori appunto in particolare dei dati sulle imprese o se in qualche modo c'è una dietro un po' una regia dell'Eurostat appunto dal momento che vedo che in molti paesi queste revisioni sono avvenute mi chiedevo appunto se c'è una regia dell'Eurostat comune diciamo ai vari paesi insomma così come c'è stata in passato per esempio quando si è incluso l'economia illegale l'economia sommersa prima ancora e così via grazie allora sulla prima domanda avete visto che c'è stato un impatto di due decimali in termini di indebitamento pil nel 2021 cioè un miglioramento di due decimali per effetto di questo pil più alto e questo sostanzialmente a parità di indebitamento sul 2022 quello che è successo è che questi due decimali in più più l'effetto trascinamento dovuto alla crescita del pil sono stati in buona parte compensati da una stima più completa degli effetti del super bonus quindi questo ha un po' annullato diciamo così quel quei miliardi che erano stati diciamo così portati da questa revisione in livello del 2021 stesso sulla seconda domanda non c'è quindi non sono dati che provengono dal MEF diciamo o dalla RGS sono dati relativi al super bonus stesso sulla seconda domanda se ho capito bene non c'è una regia di Eurostat dietro ma c'è appunto questo effetto del frame e anche per gli altri dell'utilizzo del frame SBS ma anche per gli altri paesi c'è l'effetto di una informazione più completa sull'anno e sui conti economici delle imprese dal prossimo anzi da quest'anno volevo dirvi che c'è una anticipazione da parte dell'Istat di questo frame SBS quindi abbiamo una conoscenza del frame a TPU 11 mesi essenzialmente a novembre avremo già disponibili i dati del cosiddetto frame anticipato che quindi potrà essere inglobato nei dati che produrremo a marzo 2024 quindi lì vedremo effettivamente come sono andate le cose per il 2022 e quindi avremo un quadro diciamo così più completo dell'economia delle imprese italiane però non c'è alcuna regia di Eurostat non c'è niente di raccomandazioni specifiche di Eurostat è un effetto statistico che per il periodo particolare ha colpito così come il Covid tutti i paesi a livello internazionale chi più chi meno come dicevamo prima il leg temporale tra le analisi congiunturali e quelle strutturali e le metamorfosi che sono avvenute nel sistema produttivo in quegli anni particolari di passaggio di uscita dalla caduta della dovuta al Covid evidentemente producono dei dati che consentono ai conti nazionali di registrarli con questo appunto leg temporale c'è una domanda di Mario Sensini del Corriere della Sera che ti leggo posso chiedere quale sia stato l'impatto calcolato dei bonus edilizi su deficit e debito nel 22 e in questi primi mesi del 23 c'è la possibilità che Eurostat suggerisca una nuova contabilizzazione dei bonus quantomeno di quelli senza sconto in fattura eccessione del credito allora su questa questione dico solo che l'advise Eurostat non è ancora stato pubblicato quindi noi stiamo aspettando questa pubblicazione e con le conseguenze del caso cioè la classificazione di queste tax expenditure sui trimestri a venire però ci sono i colleghi che si occupano di questo particolare delicata questione statistica sentiamo se Giovanni vuole dire qualcosa prego rispondere c'è Susana che è il capo servizio del capo servizio della finanza pubblica prego Giovanni vieni a un microfono così spieghi bene i colleghi questa questione per quanto riguarda l'impatto della della spesa per il super bonus del 2022 sull'indebbiamento è di circa 2.8 percentuali su quello che sarà invece diciamo l'impatto della spesa nel 2023 stiamo lavorando le informazioni a disposizione non sono ancora stabilizzate e quindi speriamo di riuscire ad avere una stima valida entro il comunicato del 5 ottobre al momento non siamo in grado di fornire una valutazione su quello che sarà diciamo le considerazioni di Eurostat anche su questo siamo come diceva appunto Davide siamo in attesa dell'advise di Eurostat che comunque in valutazione soprattutto la spesa del 2023 per il futuro siamo anche lì stiamo lavorando stiamo cercando di capire quale sarà l'effetto futuro soprattutto alla luce delle prime evidenze che ci serviranno per capire quale sarà la natura della spesa in futuro per il momento non ho ulteriori questioni da come dicevamo prima il 4 ottobre non il 5 il 4 ottobre è sicuro questo è sicuro il 4 ottobre diremo l'indebitamento netto del secondo trimestre dell'anno e lì vedremo appunto come si risolve questa questa questione qui ci sono altre domande da fuori non ci sono altre domande ci sono colleghi qui se vogliono prego Luca Cifoni del messaggero prego quando poco fa il dottor Sapio parlava sul 2022 dell'effetto del super bonus lui si riferiva alla dinamica del prodotto non alla parte di finanza pubblica se ho capito cioè quando ha detto che l'effetto del super una revisione dell'effetto del super bonus ha compensato l'effetto positivo della revisione del 2021 se ho capito bene quindi sì sì chiaramente non in termini di produzione ma in termini del numeratore beh nel senso che l'effetto del super bonus sul prodotto è stato minore di quello che era stato stimato in precedenza se ho capito bene oppure se può spiegare se non ho capito sul 2022 lei ha detto poco fa che nel 2022 c'è stato da una parte un effetto diciamo della revisione precedente diciamo in positivo e un effetto del super bonus che si sono compensati ha usato questo termine se ho capito bene se può spiegare meglio questo cioè lì c'è stato un effetto di aumento del denominatore che ha chiaramente schiacciato a parità di indebitamento il rapporto indebitamento pil però contemporaneamente l'indebitamento è peggiorato ha compensato diciamo l'effetto che probabilmente sarebbe stato di 0,2 positivo della sono due cose diciamo separate altre questioni io volevo solo dire una cosa se non ci sono altre domande Gianni prego Gianni trovati del solo 24 no solo un chiarimento numerico diciamo la spesa lei ha detto per il super bonus del 2022 è stata pari a 2.8 di pil è stato detto adesso una cosa del genere lei l'ha detto forse però 2.8 che sono 54 miliardi vero ok che è significativamente superiore diciamo a quello che avevamo visto da documenti di finanza pubblica precedenti sono dati che quindi si stabilizzano nel tempo anche per quel che riguarda emergono diciamo nel tempo anche per quel che riguarda il passato capito bene grazie ha rialzato la mano Kevin Jones se vedo bene Kevin prego si mi sente si si va no è sempre su questa cosa del super bonus che è una questione ovviamente abbastanza annosa quindi ci siamo detti che ho i bonus delizio in generale nel 2022 l'aumento del livello del pil avrebbe dato un effetto positivo sul deficit più di circa 0,2 se ho capito bene ma questo è stato annullato perché intanto c'è stato il super bonus che è la spesa e quindi ha aumentato la spesa di 2,8% ci ho capito bene anche qui e quindi siamo arrivati pari e le due cose non sono compensate sì sì anche se stesso ha aumentato sì però l'altra parte dell'equazione se vogliamo è che il super bonus stesso ha aumentato il pil perché c'è stato un effetto di spinta alla crescita del super bonus quindi questo è incluso in tutto il quadro di calcolo insomma è vero che la spesa per il super bonus ha aumentato la spesa ma anche ha aumentato il pil volevo solo inserire anche questo questo componente del calcolo certamente certamente nel senso che c'è stato questo effetto di stimolo abbiamo fatto un'audizione appunto su questo tema sugli effetti produttivi del super bonus e degli altri bonus questo non mi ricordo bene quando ottobre la tarda primavera adesso non lo ricordo anch'io comunque abbiamo fatto un'audizione su questo tema in a maggio a maggio e lì trovate anche un esercizio che ha fatto il nostro servizio che fa queste simulazioni macroeconomiche con una questione sui famosi moltiplicatori fiscali nostro rispetto a quello di altri previsori per esempio come quello dell'ufficio parlamentare bilancio a maggio trovate nell'audizione di maggio proprio un articolato su questo tema sì però chiaramente appunto come dicevamo precedentemente l'effetto c'è in termini di valore aggiunto e di investimenti quindi noi registriamo tutto non ci sono altre domande io ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti prima di concludere siccome abbiamo parlato di revisioni e di normale processo di produzione statistica che comprende per l'appunto la revisione come pezzo diciamo del ciclo della produzione di una statistica ufficiale come detto prima Giovanni non so se vuole dire qualcosa in più anche su questo in conclusione l'anno prossimo è invece l'anno della revisione straordinaria che fanno i conti nazionali che si fa ogni cinque anni l'ultima è stata fatta nel 2019 è un esercizio che vede convalta chiaramente tutta la statistica ufficiale europea e viene chiamato dai tecnici l'anno benchmark in cui si fissa un nuovo riferimento per il prodotto per il calcolo del prodotto sulle lunghe serie e quella sì sarà un momento di revisione straordinaria che terrà conto di quello che è stato fatto ora sì ma non solamente per noi anche per gli altri paesi dell'UE dell'Unione qui Eurostat effettivamente centra come veniva suggerito precedentemente a settembre più o meno in questo periodo usciremo con la 2021 benchmark quindi incorporeremo nuove classificazioni qualche censimento tutto il set informativo e le raccomandazioni di Eurostat saranno incluse in questi nuovi dati questo viene chiamato l'anno di benchmark ogni cinque anni c'è questa revisione straordinaria l'ultima è stata con anno di riferimento 2016 e quindi sciftiamo di cinque anni e l'anno prossimo di benchmark pubblicato a settembre 2024 sarà appunto il 2021 ecco perché come avevo detto precedentemente ci piaceva fare questa conferenza stampa che questo è un anno delicato dal punto di vista statistico ecco non solo economico chiaramente usciremo sempre con la nuova versione dei conti nazionali a febbraio del 2024 però ancora senza anno di benchmark questo sarà a settembre allora grazie vedo un'ultima domanda ma insomma è una cosa che abbiamo già detto prima l'impatto dei bonus sul debito i criteri contabili sono diversi noi abbiamo detto sempre che i bonus hanno un impatto diretto sull'indebitamento e non sul debito pubblico invece stando alla cosa che stiamo su cui stiamo concludendo io lo ripeto ai colleghi in particolare nella prima pagina di questa nota informativa che accompagna il comunicato sui conti annuali che racconta la revisione trovate veramente tanti dettagli che spiegano le ragioni di procedura di processo e che entrano dentro la dinamica macroeconomica per spiegare cosa c'è dietro questa revisione ringrazio tutti e naturalmente come sempre i colleghi sono a disposizione trovati i referenti alla fine dei comunicati per eventuali ulteriori carimenti noi monitoriamo le agenzie e il prossimo appuntamento come dicevamo prima per quello che riguarda la contabilità nazionale con il comunicato del 4 top prima di allora immaginiamo anche se non abbiamo un calendario ufficiale su questo ci sarà l'audizione sulla notte di aggiornamento al DEF grazie grazie buon lavoro a tutti arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti